Siamo sul T della Bucca 7, qui è importante giocare sempre in centro green, così da evitare l'ostacolo davanti al green e un Cib molto difficile dietro il green. Siamo sul centro del green della Bucca 7 e questo, come detto prima, ci permette di avere la possibilità di fare due quattro con tutte le posizioni di bandiera.